Allora, cari ragazzi, come ogni anno ci ritroviamo in questo bellissimo evento del Gifon Film Festival. Un saluto affettuoso a voi, ai vostri papà, alle vostre mamme, ai vostri fratelli e sorelle, alle vostre famiglie. Un saluto cordiale ai colleghi sindaci che sono qui presenti con noi, a rappresentare tante comunità, alle autorità militari, civili che ci accompagnano in questo evento. Mi hanno chiesto venendo qui qual è il valore del Gifon Film Festival all'oggi. Il Gifon Film Festival all'oggi ha un segno di speranza per il futuro. Di speranza perché è rivolto alle giovani generazioni, ma ancora di più di speranza perché questo evento coltiva i valori della solidarietà, del rispetto reciproco. Sentivo Claudio Cupidosi dire prima che ci sono ragazzi e ragazzi di 35 paesi del mondo. Questo è il messaggio più importante che deve arrivare a tutti da Gifoni. Il futuro del mondo è fatto di convivenza, di rispetto reciproco, di solidarietà, di tolleranza, di pace. E vorrei che arrivasse anche da Gifoni il messaggio che noi come regione di Albania abbiamo lanciato il 28 ottobre dello scorso anno. Cessate il fuoco subito in Ucraina. Cessate il fuoco. Poi vi scuperemo di fare gli equilibri. Ma in questo momento ci sono tanti vostri piccoli amici che sono sotto le bombe, che non possono vivere, che vivono nel terrore. La priorità assoluta è, per quello che riguarda la regione Albania, il cessate il fuoco subito, senza condizioni. Poi si apre il tavolo per discutere di pace, ma se non fermiamo oggi la guerra e il massacro sarà difficile arrivare anche alla pace. E' in sostanza il messaggio che sta lanciando da un anno quel signore anziano vestito di bianco che vi ha rivolto un saluto dalla finestra del Vaticano. Cessate il fuoco. Allora, voi vi incontrerete, conoscerete altri amici di tanti paesi, di tante città, anche di tanti luoghi d'Italia, anche questo è importante. Lasciamo crescere innanzitutto l'unità del nostro paese, l'unità d'Italia in questo momento. Farete delle bellissime esperienze. Avrete modo di capire com'è bello parlare con vostri compagni di altre parti del mondo. Nell'Europa, di altri continenti e capirete quanto siate vicini. Non ci sono distanze quando vi guardate negli occhi e quando condividete sentimenti umani di solidarietà e di amicizia. Mi fermo qui, anche perché fa caldo. Sarà una bellissima edizione questa dei 53 anni di Gifoni. Quando terminerà questo evento e quando tornerete nelle vostre città, nei vostri paesi, portate solo questo messaggio. La cosa più importante è la pace, la solidarietà, il rispetto fra le persone e i popoli. Un grande abbraccio a voi e alle vostre famiglie.